E' stato colpito di striscio al volto il 49enne coinvolto in una sparatoria a Gioia del Colle nel Barese. E' successo in via Luigi e in Audi, zona via Noci. Il proiettile ha raggiunto l'uomo alla mandibola. L'ha telefonata al 118 delle 14.35 di mercoledì 15 marzo. La vittima, trasportata nell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato due pistole nella sparatoria. sono stati danneggiati anche i finestrini di un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, il 49enne sarebbe estraneo agli ambienti della criminalità locale. Al lavoro i militari della sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari, che dopo un accurato sopralluogo, stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto per cercare di risalire al responsabile. Tutto al momento è avvolto nel mistero l'autore del ferimento e il movente.